contro il Bari che nell'ultima giornata ha la sfortuna di trovare un Palermo deciso a difendere il primato. La squadra di Guidolin preme nell'area pugliese e viene premiata dal colpo di testa di Luca Toni. Il capocannoniere del torneo sale così ad un clamoroso 30 in classifica marcatori. Prima del riposo il raddoppio, cross di Gasbarroni che grosso a domestica e mette in rete.